Sta arrivando Martina Morini e vedete la pedalata che ce l'ha messo di tempo, è anche giusto Ma non è lei? È un signore con le gambe pelose, quindi spero che Martina non sia questa Sarebbe una metamorfosi Ancora un gruppo, no è lei, è lei, non è lei E' lei, Martina Morini, numero 8, no, no, è lui Eccola Martina Morini, numero 89, taglia il traguardo No, no, deve arrivare, lui è Martino Eccola, è questa, sì, è lei È finita Finale mia parte per favore Ecco Martina Brava Come una star, come una star si è fatta a tendere E io vorrei sapere, facciamoli passare un po' di pietoni Ma perché sapete di questa accoglienza? Lo sai che un altro anno sarà dura perché tutti vorranno arrivare ultimo Complimenti mattina, ciao Ciao